Sono davvero felice, onorato, di poter accogliere in Consiglio regionale, di poter premiare un'associazione, la Swift Water Rescue Team Toscana, che in questi anni ha scelto sempre qual era la parte giusta della storia da acquistare, quella dei soccorsi, degli aiuti durante le fasi emergenziali. C'erano sempre, svolgevano e svolgono un compito fondamentale durante i momenti più difficili della nostra regione. Oggi ho voluto premiarli qui in Consiglio regionale. Ho avuto modo di conoscerli più da vicino durante la pandemia. Anche in quel caso non si sono mai tirati indietro. Hanno scelto di andare nei luoghi più complessi, hanno scelto di saper tendere una mano. Ecco, alle ragazze e ai ragazzi, alle giovani e ai giovani toscani, dico cercate di impegnarvi nel volontariato, cercate di rendervi disponibili. Così si aiuta a prendere cura del proprio territorio. Così si costruiscono le condizioni per una Toscana migliore. È un gruppo di volontari e da sede a Pisa. Cerimonie di premiazione per l'associazione Swift Water Rescue Team Toscana, per dare il giusto merito a chi si è adoperato nel prezioso lavoro di soccorso in occasione delle alluvioni dello scorso autunno in Toscana, ma anche per la loro instancabile attività eseguita negli anni precedenti. È una grandissima gioia, è un grandissimo onore. Ovviamente è un premio che premia tutto e l'impegno di ogni singolo volontario. Che dire, sono giornate speciali, sono giornate che riempiono il cuore. Questo tipo di manifestazioni, che possono sembrare formali, in verità hanno un significato veramente molto sostanziale, perché è il percepire del riconoscimento di quello che abbiamo fatto finora e di quello che vorremmo fare. È solo l'inizio, come giustamente ha detto il Presidente Antonio Mazzei. Quest'anno abbiamo una novità. Oltre ad avere il nostro stand, che è un luogo in cui presentare Libia e far conoscere le tante case editrici toscane, abbiamo deciso, e lo facciamo insieme ad Unicop, di far partire un treno con 450 toscane e toscani che potranno partecipare al Salone del Libro. Partirà sabato 11 maggio dalla stazione di Firenze per arrivare alla stazione di Torino-Lingotto, il treno dei lettori toscani. 450 cittadini della Regione parteciperanno così alla Salone Internazionale del Libro di Torino. Il viaggio è finanziato da Giunta e Consiglio regionale. Un'idea, spiega la Presidente della Commissione Cultura, nata anche dopo gli Stati Generali della Cultura. E per quanto riguarda la promozione della lettura nella comunità, nella società dei cittadini e delle cittadine, ci è sembrato che l'occasione di andare tutti insieme al Salone di Torino potesse essere l'occasione propizia, proprio per dare questa dimensione della lettura come anche pratica di cittadinanza, di partecipazione alla costruzione di un discorso pubblico, di una presenza nella società civile che per tante cittadine e cittadini è normale, ma per molti ancora no. Quindi il treno dei lettori nasce proprio da questa idea. L'animazione sul treno sarà curata dall'Associazione Wimbledon. Faremo un intrattenimento all'interno del viaggio di andata del treno, una sorta di radio dei lettori toscani, un intrattenimento che vedrà avvicendarsi quelle che sono le voci presenti nel treno, dalle istituzioni a quelle che sono i progetti che poi saranno protagonisti in quello che è il programma nello stand della regione al Salone. A Torino attorno allo stand dell'editoria toscana. Ospiteremo 33 editori tra quelli che hanno partecipato al bando, più altri che invece fanno parte di un tavolo collettivo di tutti gli editori che fanno parte del circuito di Toscana Libri. Quindi il nostro ruolo è un po' quello di fare da collante, da tramite tra tutti questi editori. Un progetto che nasce con la collaborazione e il contributo di Unicop Firenze. Noi naturalmente con Regione da circa 15 anni abbiamo un progetto attivo, volontariato dei libri all'interno dei punti vendita, le 40 Bibliocop, che è un grande motore di partecipazione. La fondazione che ha delle finalità civiche, di solidarietà sociale, che in questi anni attraverso dei lavori nelle organizzazioni di tante commissioni che hanno trattato tantissimi temi a partire dall'ambiente, dalle infrastrutture, proprio dalle tematiche del sociale e tanto altro ha saputo coniugare un valore imprenditoriale, un valore anche di coloro che hanno voluto fortemente la nascita e la crescita di questa fondazione assieme a quelle che sono le problematiche di un territorio. Quindi oggi noi diciamo che sono passati dieci anni ma auspichiamo che questa fondazione vada avanti per altri cento a dare il proprio contributo così importante. Così il portavoce dell'opposizione nella presentazione del decennale della fondazione Isola d'Elba ETS a Palazzo del Pegaso il bilancio di dieci anni di attività di una realtà che conta 340 soci ed è impegnata al fianco dei cittadini e delle attività dell'isola più grande dell'arcipelago toscano. Diciamo che la fondazione si occupa a tutto tondo dei problemi dell'isola delle sue necessarie valorizzazioni sotto tutti gli aspetti sociale, economico, produttivo, ambientale quindi i progetti sono molti probabilmente questa non è la sede di elencarli tutti sicuramente la cosa che è importante capire come un'associazione come la nostra che è nata per pulo volontariato da parte di persone che amano questo territorio ha trovato veramente l'aiuto spontaneo di tante persone che hanno voglia di fare qualcosa per la propria terra per la propria isola che proprio perché isola delle particolarità che devono essere in qualche modo esplicitate per essere trasmesse nel giusto modo anche al di fuori altrimenti è una realtà che rischia di non essere compresa anche nelle sue grandissime potenzialità i risultati raggiunti i prossimi obiettivi saranno al centro di alcuni appuntamenti che a maggio si svolgeranno a Portoferraio e quindi noi onoreremo questo compleanno e anche questa attività che abbiamo svolto in questi dieci anni con delle iniziative che faremo a Portoferraio il 4 di maggio e oltre ovviamente a invitare i soci 340 della nostra fondazione vogliamo anche invitare tutte le persone che vogliono avvicinarsi a noi all'isola d'Elba alle nostre attività e quindi benvenuto a tutti diffonderemo con la stampa e con i media il programma delle iniziative che comunque comprendono un convegno al quale parteciperanno molte persone che si occupano di cultura sociale di impresa e anche di volontariato e anche di cittadinanza attiva quindi organizzeremo questa tavola rotonda poi ci sarà una scena e successivamente uno spettacolo guarda caso dedicato alla famiglia Olivetti e quindi a un imprenditore responsabile che teneva moltissimo al proprio territorio come facciamo noi della fondazione un giornale libero un giornale che parla di fede ma che ha anche la capacità di sapere affrontare tante delle tematiche più di frontiera del nostro tempo un punto di riferimento per i cattolici e non solo uno spazio di libertà Toscana oggi da 40 anni la voce del cattolicesimo toscano è il libro di Andrea Fagioli per 10 anni direttore del settimanale presentato a Palazzo del Pegaso occasione per celebrare questa importante realtà dell'editoria e dell'informazione toscana un settimanale cattolico unico per tutte le dioci della Toscana era effettivamente una scommessa adesso il giornale ovviamente è andato avanti ha fatto progressi quindi dalla parte cartacea in cui è iniziato una sorta di sbarco piratesco allora nella stampa adesso poi è progredito ha sfruttato la multimedialità quindi insomma ha un grande passato però si spera abbia un grande futuro in sala l'attuale direttore Domenico Mugnaini che ha ricevuto una medaglia dell'assemblea legislativa direi che Toscana oggi dà delle notizie che probabilmente gli altri media ma è normale magari non trattano neppure noi cerchiamo di trattare quelle che sono le nostre le notizie che riguardano non solo la Chiesa ma le notizie che riguardano un certo mondo in modo ti ripeto tranquillo senza arrivare mai a uno scontro e senza urlare le notizie questo nel nostro mestiere forse oggi non è più facilissimo da 40 anni Toscana oggi è riuscito a farlo è presente anche l'arcivescovo di Firenze che ha sottolineato il ruolo importante svolto da Toscana oggi di grande interlocuzione con la società toscana sono stati 40 anni di grande interlocuzione con quelli che sono i problemi sociali culturali politici anche del nostro territorio e quindi non è una cosa da sacristia Toscana oggi è qualcosa che sta sul territorio confronto con tutti un livello culturale anche significativo basta vedere le firme dei direttori anzitutto ma poi anche dei tanti collaboratori editorialisti e così via questo mi sembra un altro aspetto importante una voce per tutti che sta sul territorio una voce di cattolici questo senz'altro e infine direi un grazie ai tanti giornalisti che l'hanno animato questo strumento e che l'hanno reso anche un strumento autorevole il significato è quello di creare un luogo dove possano sviluppare le competenze digitali in ambito didattico e di ricerca da parte degli studenti delle scuole superiori dell'università degli ITS e ovviamente da parte dei docenti un punto di incontro e confronto aperto ai docenti di tutta la Toscana formazione continua a supporto nella ricerca pedagogica accesso alle risorse innovative il nuovo hub per l'innovazione la ricerca e la formazione regionale inaugurato all'interno dell'istituto da Vinci Fascetti di Pisa il progetto nasce da una collaborazione tra il consiglio regionale l'ufficio scolastico regionale l'indire l'istituto documentazione innovazione ricerca educativa è l'università di Pisa ed è finanziato dal consiglio regionale con un importo di 75 mila euro e noi come consiglio regionale siamo orgogliosi di aver finanziato questo progetto e lo abbiamo fatto utilizzando i risparmi sui costi della politica le due cose si tengono insieme si può lavorare bene efficientizzare e usare quelle risorse per dare risposte alle ragazze e ai ragazzi che sono il nostro presente per il nostro futuro l'obiettivo generale è quello di promuovere una istruzione di qualità quindi il nostro ruolo è quello sicuramente proattivo propositivo di proporre dei percorsi di formazione per gli insegnanti per gli insegnanti in servizio per corsi di formazione che vedono che vogliono vedere l'insegnante innanzitutto in un ruolo proattivo che si coniughino alla sperimentazione sul campo che si coniughino alla costituzione di quelli che in letteratura si chiamano community of inquiry cioè comunità che raccolgono persone di varie sensibilità di varie esperienze di varie competenze che siano un'occasione di riflessione critica sull'insegnamento e sull'apprendimento delle diverse discipline Non si tratta di trovare un luogo dove trovare un posto a sedere per essere formati ma è un luogo dove si farà ricerca e dove le persone che lo frequenteranno saranno attive saranno coinvolte in delle attività direttamente quindi non saranno chiamate ad ascoltare qualcuno esclusivamente ma semplicemente o meglio non semplicemente ma saranno chiamate a svolgere delle attività che dovrebbero avere un po' un risvolto nel loro comportamento professionale e quotidiano perché si parla di insegnanti quindi si parla di formazione in servizio si parla di formazione iniziale si parla di alta formazione si parla di ricerca da parte nostra Soddisfatto il dirigente scolastico Federico Betti Sì per noi è un'opportunità per noi come istituto ma anche per tutte le scuole del territorio infatti questo laboratorio se nel pomeriggio è aperto per la formazione dei docenti in servizio e dei futuri docenti la mattina è a disposizione delle scuole quindi tutte le classi del territorio potranno accedere a questo laboratorio per una didattica digitale ma più che altro una didattica attiva dove gli studenti diventano protagonisti nel percorso formativo All'inaugurazione anche il presidente della provincia di Pisa Io penso che questo sia una sfida le scuole non solo politiche di formazione ma anche momenti dove si sta insieme e la città riesce a stare insieme qui diciamo da questo istituto escono grandissimi studenti e grandissimi lavoratori le persone che fanno il nostro futuro io penso che sia questa la scommessa la provincia di Pisa anche per un ruolo di nuovo da confermare per questo ente grazie alla regione toscana si conferma con un ruolo importante nella formazione ma anche all'interno della società della comunità e della città di Pisa grazie a tutti Grazie a tutti